Buongiorno ragazzi, complimenti per il foglio rosa, io sono l'esaminatrice Tiziana Ferretti. Oggi c'è l'esame di pratica, siete pronti a prendere la patente? Sì, sì. Iniziamo col primo, Farouk Hekri. Prima domanda, come si apre il cofano? Allora, guarda, questo... Ma sei pazzo? Questo grande... Non si apre così il cofano, ora ti faccio vedere io. Prima domanda, sbagliata totalmente. Allora, così si apre. Passiamo alla seconda domanda. Questa serve? No, no, buttalo, buttalo. Quando il motore si riscalda tanto, cosa fai? Stai, 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 stai. Ventilatore, Tp3, vol, cattacina e pesce, taccato a kilowatt. Grande soluzione, 3 FIETA, ventilatore... Tu e la patente, due strade diverse. Come due strade diverse? Sì, sì, Farouk, basta, dai. Come basta? Basta, metti via, eh? Farouk, la patente della sogni, dai, vai via. Nimi euro, mi scon. No, 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 Farouk. Ademgeri. Avanti col prossimo, vafti io, Lussi, prego. Arrivo. Sono molto arrabbiata, cominciamo subito. Allora, il cofano è aperto. Quando manca l'acqua, dove controlli? Ah, questa è un bel sorpresa, eh. Aspetta qua, un momento. Ma dove vai, oh? Ma aspetta, cosa c'è di preoccupazioni, eh? Va bene, dai. Ah, ecco, ecco. Ma cosa è questo? Tieni la tuta. Adesso io vado da Cesna e apro acqua. Chiama quando arriva, eh. Sì, sì, fermo, fermo qua, fermo qua. Questa è la prossima domanda che hai già sbagliato, dai. Ma ho pagato? Io sono. Ehi, porta indietro, non è un po'. Meglio, meglio. Disastro. Quando manca l'olio, dove lo mettiamo? Qua. No. Sì, qua. No. Qua. No. Perché guardi su? Cosa c'è? È sporco, eh. È di fatto, non hanno pulito bene. Comunque l'olio è qua. Ma sapevo io cosa pensi tu, sapevo che era là. Qua ne mettiamo? Questa macchina serve super olio speciale, guarda. Questo, eh? Super olio di oliva extravergine, oliva di Grecia, eh. Sì, sì. Speciale, adesso butto io. Guarda, non serve, non serve. No, no, apro. No, no, non serve. Aspetta che non si apre. Va bene, comunque io ti regalo questo. Grazie, anche un regalo per te, eh. Sei bocciato. Come bocciato? Eh, sì. Ma per promosso ti devo dare anche patatine? No, 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 no. Dai, vai a casa. Cosa? Oh, così troppo la cucighella è proprio un po' inizia a terto arto. L'ultimo. Mi sono rotto degli altri due, va. Allora, lasciamo stare il motore. Quando arrivi in una rotonda, chi era la precedenza? Albanesi. Sbagliato. Seconda domanda. Quando il semaforo è arancione, cosa devi fare? Può accelerare. Se abbiamo bisogno di cucciare, va nonna. Terza, ultima domanda. Ma tu come hai fatto a passare l'esame di teoria? Polia. Abbiamo capito che in teoria sei una frana. Passiamo al motore. Come fai a misurare la sua temperatura? Ah, semplice. Vai, double must. Vai dietro. Dai, fammi vedere. Ecco qua. C'era. Con questa. Tieni. Sì. Ah, va qua. Grazie. Cosa? Normale, è normale. Sei vabbè, vabbè. Oh mio Dio. 39 e mezza. Hai sentito la frase, ride bene e credi ultimo. Bocciato. Ciao. Ghila. Far finta di niente, hai sentito parlare nella tua città.